E adesso dobbiamo fare piramidi, quindi cominciare con un colpo fino a dieci colpi e poi scendere di nuovo a un colpo, va bene? Attenzione, gamba destra va indietro, braccia sinistra avanti e cominciamo. Uno, uno, due, uno, due, tre, bravo, attenzione, uno, due, tre, quattro, ok? Uno, due, tre, quattro, cinque, super, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, perfetto, allungo le braccia, Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ok? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, bravo, ancora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e ancora un colpo Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, bravo, cambiamo guardia, cominciamo Uno, uno, due, uno, due, tre, uno, due, tre, ok? Ok, 1, 2, 3, 4, ok, 1, 2, 3, 4, 5, allungo braccia, non dimentica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bravo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e ancora, quasi, quasi, 10 colpi, attenzione, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, bravo, recupero. Grazie.